Dopo aver completato il roster con gli acquisti del play americano Damier Piz e dell'ala centro Giovanni Carenza, è avvenuta oggi la presentazione ufficiale del Roseto Sharks, che affronterà il secondo campionato consecutivo di Lega Silver, un campionato che si preannuncia molto impegnativo per i biancazzurri, che avranno come obiettivo principale quello della salvezza. Coach Tony Trullo infatti disporrà di un roster molto giovane che avrà in quintetto base Piz, Yankil Moreno, Devo Nasher, Innocenzo Ferraro e Silver Bryan, mentre in panchina partiranno i giovani Giulio Antonini, Pierpaolo Marini, Piero De Dominicis, Giga Iane Lizze e Giovanni Carenza. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, campionato difficile, durissimo, molte squadre forti, abbiamo cambiato tutto il roster, l'età media è molto bassa, abbiamo puntato anche su americani molto giovani, quindi rookie come Devo Nasher, appena uscito da Delaware, anche lo stesso Piz che abbiamo annunciato ieri, è un giocatore giovane perché ha 24 anni, con due anni di esperienza già in Europa. Speriamo insomma che i giovani ci diano delle soddisfazioni e soprattutto che giochino come vuole anche il pubblico di Roseto. Il pubblico di Roseto vuole una squadra che lotti, poi magari chiaramente quest'anno non so quante partite si vinceranno, però il nostro obiettivo è quello di arrivare all'ultima giornata, all'ultimo secondo salvi sul campo. L'anno scorso è ereditato la squadra in corsa, quindi insomma quest'anno l'ha potuta costruire lei in prima persona, come vede questa squadra in generale? Sì, rispettando anche il budget e quindi tutto quanto quello che era stato detto, che Roseto ha rischiato anche di sparire dalla Silver e magari iniziare dalla B. Questo non è successo grazie anche al nostro sponsor di Sante, quindi speriamo che le scelte che abbiamo fatto, poi sta sempre il campo a dire se le scelte che abbiamo fatto sono quelle giuste. Ho riportato a Roseto anche un giocatore che ha giocato con me come straniero, che è Silver Bryan. Adesso ha qualche piccolo problema fisico, speriamo di risolverlo in un mese e che quindi lui ha già la prima di campionato, possa essere già in campo. In questo momento noi possiamo pensare soltanto alla salvezza, ci sono squadre con un budget altissimi, penso a Treviso, penso a Omegna, ma ci sono tante belle squadre e quindi anche la stessa Latina che è stata ripescata, ha messo dentro un roster importante. Sono squadre molto forti, il nostro obiettivo è quello di arrivare quartultimi evitando i play-out. Se non ci riusciamo anche salvarci tramite i play-out, ma non sarà una cosa semplice perché quest'anno i play-out si giocheranno con quelli della Gold, quindi è una formula abbastanza complicata. I play-off saranno soltanto a quattro squadre, quindi riservate solo alle prime quattro e non più alle prime nove come l'anno scorso, quindi campionato complicato ma noi il nostro obiettivo sappiamo qual è e vogliamo cercare di centrarlo.